Sindaco, si torna a parlare del distretto di base alla Peter Pan. A che punto è la trattativa per l'inizio dei lavori? E' a buon punto. Occorre fare un riepilogo della situazione. Nel 2019 è stato chiuso per motivi di sicurezza il distretto di base di Chitiscalo in via dei Lichio. Questo era un presidio sanitario importantissimo per la parte più popolosa della città, che comprende non solo Chitiscalo, ma anche Brecciarola e San Martino. Quindi la preoccupazione della mia amministrazione, insediatasi nell'ottobre del 2020, era quella di trovare insieme con la ASL un locale idoneo che potesse ripristinare le funzioni di questo presidio sanitario. Poi c'è stata la pandemia che ha bloccato tutto, ma durante la pandemia la nostra attenzione del comune, della ASL, si è puntata sull'ex asilo Peter Pan in via Pescara. Pertanto, dopo diversi mesi, avendo la ASL intercettato dei fondi del PNRR per la costruzione delle costette case di comunità, abbiamo firmato una convenzione di comodato d'uso gratuito per 50 anni, che desse la possibilità alla ASL sia di non perdere i finanziamenti e sia di poter iniziare anche i lavori. Per quanto riguarda il comune, dobbiamo ancora risolvere, ma nei tavoli tecnici si è giunti quasi al termine di questo ITER, per una controversia in questo senso che noi siamo il comune proprietario dell'immobile Peter Pan, ma non del sedime su cui insiste la stessa struttura, che sarebbe di proprietà delle trafilerie meridionali. Comunque rassicuro i cittadini che siamo a buon punto per ridare alla popolazione di Chiediscalo, Brecciarola e San Martino il presidio sanitario che nel 2019 era stato chiuso con grave nocumendo per i bisogni della popolazione.